Circa 150 allunni dell'Istituto Scolastico Comprensivo Garibaldi di Real Monte hanno incontrato il professore Francesco Pira, garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del comune di Real Monte, in presenza tra gli altri del sindaco Sabrina Lattuca, il capitano dei carabinieri Anna Maria Putortì, comandante della compagnia di Agrigento e le vice quest'ora giunto Chiara Sciarabba, capo del commissariato di Portempedocle e Don Fabio Maiorana, parroco della chiesa di San Domenico. I docenti e numerosi familiari. Abbiamo detto in questi giorni sempre più spesso che i ragazzi devono poter costruire il loro futuro, renderlo, come diceva Papa Giovanni Paolo II, un capolavoro, ma per questo noi dobbiamo dare le condizioni, dobbiamo creare le basi, dobbiamo gettare le basi e un'attività come quella di questa mattina può sicuramente rappresentare un'azione concreta verso la consapevolezza dei ragazzi, verso la loro capacità di discernimento. Ho ascoltato degli interventi molto interessanti di qualche alunno dell'Istituto Comprensivo Garibaldi, ecco già c'è un grado di consapevolezza ma si può fare ancora di più, in quella capacità di discernere cosa non è reale, da cosa è reale, cosa è buono fare, utile fare, cose invece non va fatto. E quindi insomma un passo in avanti è stato fatto per quella crescita, quell'accrescimento socioculturale di cui sempre parliamo. Io ci tengo a sottolineare che il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, oltre a parlare stamattina della carta dei diritti, ha parlato ai ragazzi delle esperienze che lui ha vissuto presso il mondo accademico e le università, ha raccontato le esperienze di altri ragazzi come loro che utilizzando impropriamente questo strumento poi si sono trovati o non più trovati perché ci sono stati anche esiti in Fausti a non poter vivere i loro sogni e la loro vita. Abbiamo parlato oggi di quella che è la figura del garante, di quello che deve fare, di come deve proteggere bambini e ragazzi e quindi c'è uno sportello nuovo, aperto, a disposizione della città per riuscire a intercettare eventuali pericoli, ma per dare sostegno non soltanto ai bambini e ai ragazzi ma anche alle famiglie. Poi abbiamo parlato dell'argomento degli argomenti, quello di cui si parla oggi costantemente, che è appunto l'intelligenza artificiale ma anche il metaverso, di quelle che possono essere le grandi potenzialità e anche pericoli. È stato bellissimo poter ascoltare le domande dei ragazzi, quelle che sono le loro paure ma anche quelle che sono le loro difficoltà a interpretare a volte come l'iperrealtà li può trascinare in qualcosa di molto pericoloso ed è questo proprio il supporto che noi dobbiamo dare, essere al loro fianco e il nostro lavoro di educatori, ci vuole una presenza forte delle istituzioni e mettere insieme le forze dell'odio, l'amministrazione, il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la chiesa, la scuola ed avere un grande risultato che dimostra che Real Monte è una bellissima comunità. I ragazzi accompagnati dai loro docenti hanno potuto fare domande, sull'intelligenza artificiale e questo era l'argomento del confronto. La scuola come sempre si manifesta come un importante luogo di collaborazione tra generazioni e dove si confrontano e si mescolano memoria del passato e visione del futuro. La fascia d'età dei nostri ragazzi dagli 11 ai 14 anni che hanno partecipato all'incontro è quella per la quale noi abbiamo la maggiore attenzione sui rischi e sulle opportunità del web, dei social, dell'intelligenza artificiale che è già tra noi e sulle problematiche di bullismo e cyberbullismo.